Buongiorno Per vedere la faccia di chi ha dormito di merda Mi do male perchè uno Ho fatto un sogno del cazzo Dove ci dovevamo ammazzare Dovevamo scappare Disastro Poi due mi sveglio Mi arriva una mail sul telefono Di uno che ha contestato Il video di minorca con il copyright Cioè Ho usato solo musica e non copyright L'unica Che stava scritto no copyright Si va a scoprire che c'è il copyright E ho fatto una contestazione alle 5 di mattina Con una mail Poi ho sentito bussare Forse me lo sono sognato Cioè proprio Senza ansia oggi In ogni caso It's Friday E quindi Sono andato in ufficio Abbiamo fatto uno scambio con BMW Svizzera Praticamente abbiamo dato una quadrifoglio per una settimana E ci hanno dato una M3 Guardate che bel va L'ultima L'ultima 125.000 franchi di macchina Siamo in prova Head up display Siamo qui Questo lavoro ci distrugge Sai come si fa a farla fumare? Come tecnologia questo ci piace Questo fa cagare E' sempre così non c'è approfondità E' da Facebook E' figo Le palette Sono un po' scendere Quelle della Giulia sono fighissime Oh raga Vi prego di venire di corsa a Zurigo stasera Perchè io Dopo due cocktail sono già a merda Adesso stiamo giocando a Piliardino Qua in questo posto che si chiama Rimini Che è a Zurigo Ma si chiama Rimini Ormai è a Zurigo Il mare è uguale però Ormai è a Zurigo Stiamo aspettando la pizza Non vibra ancora Almeno ho perso con onore Nel frattempo Io sto considerando che Sono uscito stasera Senza macchina Sta vibrando Sta vibrando Vai a prendere la pizza Vabbè senza macchina stasera Torniamo in un Uber ubriachissimo Non sono neanche le 8 Sono in condizioni pietose Comunque ragazzi Vi speriamo il trucco Stiamo giocando da un'ora Perchè abbiamo messo i bicchieri Nelle porte Sono due franchi a partita Ma chissò Ma E Caret si sposta E Caret si sposta Oh non ci rimane niente di portare Siamo ancora qua